Sì, sì, sì. Siedete, siedete, fratelli, prego, siedete, siedete. E nel trentanovesimo anno del suo regno, Asa ebbe una malattia ai piedi. La sua malattia fu gravissima e non di meno non ricorsi all'Eterno, ma ai medici. Ora, non c'è niente di male nel consultare un dottore, ma può un dottore guarire con il potere che Gesù diede ai suoi discepoli? Gli uomini di scienza possono vivere con gli occhi bendati e non sapere mai che voi e Dio non potremmo fare un solo passo se non fossimo guidati da Dio. Agnes, grazie di poter essere lo strumento dell'amore che Dio ha per te. Nella fede, tutto è possibile. Fratelli, voglio che Agnes possa sentire la potenza della fede che oggi è in questo luogo, che la spingerà nelle mani del Signore. Alleluia! Tutti insieme! Ci risci vai! Cammina, sorella! Fratelli, preghiamo il Signore! Sia lode a Gesù! Sia lode a Dio! Grazie, Signore! Grazie, Signore! Grazie, Signore! Buon appetito! Papà, ho bisogno di un dottore!